Buonasera, sono Peppino Baldassarre, gliel'hanno già fatti tanti complimenti, glieli faccio anch'io per l'ottima prestazione di domenica scorsa, sicuramente il migliore in capo, ma anche a Nocera giocò abbastanza bene. Vengo al dunque, nelle ultime due partite fuori casa, vinte dal Foggia, almeno tre volte in ogni gara, un avversario si è presentato solo davanti al portiere. Questo sono arci sicuro che Corda ve l'avrà fatto notare, anche con i suoi metodi, con i suoi sistemi, insomma, molto ruspanti e fa bene, e probabilmente starà ponendo rimedio, dico probabilmente perché a Cerignolo il rimedio non si è visto. Allora, secondo lei è il centrocampo che non filtra, è il difensore che nell'uno contro uno non riesce a tenere l'avversario più veloce, e ancora che siamo acerbi per fare bene la diagonale, oppure qualcos'altro che mi dirà lei. E questa è la prima domanda. La seconda è molto più breve. Se fossi un commissario di polizia, direi, ma lei dov'era nell'ora in cui Santoro faceva il secondo gol del Gravina qui a Foggia? Grazie. Allora, buonasera. Grazie per i complimenti che mi ha fatto riguardo alla prestazione di domenica, la ringrazio molto. Per quanto riguarda le occasioni che sono successe, sia no c'era come anche domenica, che ci siamo fatti trovare impreparati, non mi sento dire che è un errore da parte di un reparto, ma è più che altro un errore della squadra, perché in campo siamo in 11 e l'errore quando si presentano davanti al portiere, perché c'è un errore davanti, c'è un errore in mezzo e c'è un errore dietro, quindi è un errore generale che su cui noi stiamo lavorando molto, come ha detto lei, ed era immaginabile il mister ce l'ha fatto rivedere, ce li ha fatti rivedere più e più volte, e sono cose su cui noi cerchiamo di lavorarci in settimana e cercheremo con il lavoro che ci fa fare il mister di far sì che non accadano più, di concedere meno palle e gol possibili agli avversari, perché il nostro modo di gioco è quello di andare a prenderli sempre alti, cercare di non farli mai uscire, di aggredire sempre in avanti e se si presentano davanti al portiere vuol dire che di gruppo qualcosa non è funzionato, o magari siamo andati a ritardo, come è successo domenica, andando in ritardo, di conseguenza ritardo, 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 capita che purtroppo concediamo del campo alle nostre spalle. Me la puoi ripetere? Perchè ti perdono. Quando Sandoro ha fatto il secondo dei tre gol a Foggia, lei dove era? Che quello stava solo a segnare. È stato un errore, ho valutato male una palla e mi sono trovato, un metro oltre di lui, quando invece se l'avessi valutata in maniera diversa sicuramente l'avrei presa io, cioè sicuramente non gli avrei fatto prendere la palla pulita. Buonasera Umberto Della Martora, Radio Master. Mi associo a quello che diceva Peppino per quanto riguarda i complimenti personali, perché lei sta inanellando una serie di prestazioni sicuramente eccellenti e mi auguro che continui così per tutto il campionato. Detto questo, ecco, domenica si va a giocare contro una delle concorrenti dirette per la promozione, insomma è inutile nasconderlo. Ecco, cosa secondo lei deve fare la squadra per cercare di portare a casa la vittoria? Di fare qualcosa in più magari di quello che si è fatto fino adesso, perché ci si trova di fronte a una delle corazzate, diciamo, del girone? Ma, allora, sicuramente, innanzitutto grazie anche a lei per le parole nei miei confronti. Il Taranto, sì, è una squadra molto attrezzata come lo era il Cerignola, una squadra che arriverà sicuramente avvelenata perché ha la seconda partita persa in casa, è una squadra che ha delle individualità molto importanti, soprattutto davanti. Cosa dovremmo fare in più? Nulla, noi la domenica dovremmo raccogliere i frutti dei sacrifici che facciamo tutti i giorni, perché io sfido chiunque ad allenarsi come ci alleniamo noi, al sacrificio che ci chiede il mister tutti i giorni, alla voglia di lottare che ognuno di noi ci mette tutti i giorni per conquistare la casacca. E noi non dobbiamo farne più nemmeno, se non allenarci sempre a 3.000 all'ora come facciamo e far sì che ci sono ancora altri due allenamenti da fare alla grande e con la mentalità giusta, col sacrificio giusto e noi ci faremo trovare pronti. Poi il discorso tattico, come ho detto prima, è un discorso dopo, che viene secondo me dopo tutte queste cose. Una volta che hai la mentalità, la cattiveria e tu sei pronto effettivamente, puoi giocare contro chiunque e a noi non ci deve far paura nessuno, perché noi siamo il Foggia. Però non devono mancare queste cose qua che le coltiviamo durante la settimana. La domenica è il frutto della settimana. Poi a livello tattico dobbiamo crescere ancora in maniera esponenziale, quello pian piano ce la metteremo tutta. Grazie a lei. Domenico Carrello, Corriere del Mezzogiorno e Foggia Sport 24. Ciao. Ti chiedo, sei il leader in campo di questa difesa, te lo stai conquistando non a parole sul campo, con i risultati. Che avvio di stagione, seppur siamo ancora davvero all'inizio, è stato per te fino a questo momento? Sicuramente oltre le aspettative, ottimo, come lo vogliamo definire? Buonasera. Sicuramente è iniziato a livello personale bene, ma sono una persona che non si accontenta mai e potevo e dovevo fare, come ha detto su quella parola, devo fare molto, molto di più. Sto cercando di entrare sempre di più, ogni allenamento di più, nella mentalità del mister, in quello che vuole lui, in quello che ci chiede, soprattutto a noi del reparto difensivo, magari a noi che non ci conosceva, e sto cercando di lavorarci giornalmente. Purtroppo è stato un pelino sfortunato, perché sono arrivato alla prima di Fasano, che prima della Coppa Italia mi si è fatto, mi facciamo una caviglia così e sono riuscito ad entrare nel secondo tempo. Domenica l'altra è successo quello che è successo, diciamo poteva andare anche meglio. Non mi lamento, però c'è ancora tanto, tanto da crescere, tanto da migliorare, io voglio aiutare ancora di più i miei compagni, voglio crescere anch'io personalmente e questo passa, come ho detto prima, solamente dal sacrificio e dal lavoro giornaliero che il mister ci chiede, quindi dal non mollare mai. Io sono una persona che crede molto nel lavoro e cerco sempre di applicarmi. Piano piano cercherò di arrivare al meglio in quello che mi chiede il mister. Ecco, ti chiedo, era importante iniziare questo periodo difficile di tante gare a Cerignola con una vittoria, ce l'avete fatta, però oggettivamente il momento è duro, tra virgolette, se lo vogliamo definire così, perché siete nel pieno di questa tempesta di partite. Come si gestiscono forze, energie psicologiche? Cosa ha detto questo risultato di Cerignola a voi e a tutto il campionato? Allora, sappiamo che il mister ci ha preparato che comunque arrivano tre settimane con quella passata importanti dove abbiamo avuto Cerignola, adesso Taranto, poi avremo Brindisi e poi c'è anche la Tourist in Coppa Italia che non è una cosa a cui ci teniamo tantissimo come la società del mister. Come dobbiamo prepararla? Dobbiamo prepararla alla grande e queste partite qua non è vero che si preparano da sole, non è vero, come ho detto prima, si preparano durante la settimana cercando di dare sempre il massimo e il mister non ha fatto né più né meno che prepararci come ogni battaglia che affrontiamo, sia che sia contro la prima in classifica che contro l'ultima, noi cerchiamo sempre di arrivare al 200% a domenica pronti, sia che giochi contro il Taranto, massimo rispetto per il Taranto, però noi non dobbiamo avere paura di nessuno. Cosa ha detto questa vittoria con il Cerignola? Cioè se ha un significato? Sì, però siamo abituati noi giustamente a guardare subito avanti perché si può sempre fare meglio, dobbiamo fare meglio, domenica abbiamo fatto un sacco di errori e è sempre meglio parlarne dopo una vittoria, però gli errori ci sono stati e abbiamo analizzato quelli e sicuramente ha detto di non montarci la testa perché già domenica è una battaglia, noi non siamo di certo, c'è la squadra che abbassa la cresta anche perché non ce la fa abbassare il mister, quindi subito sul pezzo da martedì per prepararci per Taranto. Torno indietro di due settimane a quello che è successo in campo, in quello scontro, se ci puoi raccontare che momenti sono stati per te, se ti ricordi qualcosa, insomma come li hai vissuti anche magari dopo, come stai adesso anche se sembra insomma la grandissima. Allora, è stata una bella mazzata in tutti i sensi, è stato un bello spavento per me, per tutto lo stadio. Ci tengo a sottolineare che voglio ringraziare tutti i tifosi, tutte le persone che mi sono state vicine, che mi hanno scritto, che mi hanno anche con un messaggio aiutato in questo percorso che mi ha rimesso in piedi. Al momento sto bene, dovrò fare ancora altri esami, ma la cosa importante è che sto bene e sono riuscito domenica a dare il mio contributo ai miei compagni. Cosa posso dire? Io mi ricordo dalla punizione, poi non mi ricordo più niente fino all'ambulanza, che mi ricordo che lo stadio ha gridato a Nelli e il dottore mi ha fatto il 2-1, e gli faccio meno male. il frangente in cui sono sceso, che volevo rientrare, che ho fatto così perché c'era mia mamma, mio papà, la mia compagna, la bambina in tribuna, io quello l'ho rimosso. Però il peggio è passato, sono una persona positiva e penso che poteva andare molto peggio. Se sono qua a parlarne, se domenica ero in campo, vuol dire che qualcuno mi ha protetto dall'altro, perché in quelle situazioni lì può succedere di tutto. Io comunque ho avuto una commozione cerebrale, ma dopo sette giorni ero in campo. Ed è quello che conta, quindi adesso sto bene e mi sta detto che ci vogliono più mazzate, io direi di no. Io direi che una basta e avanza. Ecco, un'ultima domanda per quello che mi riguarda. Arriva un derby, un altro derby, sentitissimo, ne saranno quattro di fila. Quello col Taranto, tra l'altro, ci arrivate con un pizzico di entusiasmo in più rispetto a quello che già rispetto a una serie D si poteva vivere in una città come Foggia. Che tipo di ambiente ti aspetti dal punto di vista emozionale, che tipo di partita ti aspetti, perché magari potrai essere la prima con un pubblico, come dire, un po' più importante rispetto a quello che hai già visto in queste giornate. Mi aspetto un'emozione incredibile. Ne parlavo prima con Cristian, con Anelli, che l'impatto più bello per noi giocatori, al di là che per noi ogni partita giocare in uno stadio così, dal più vecchio al ragazzino, è un onore, perché non capita a tutti in serie di giocare, poi parlo per me, che ho sempre fatto questa categoria, giocare davanti a questi stadi, davanti a queste tifoserie, che comunque ti fanno sentire cosa vuol dire amare il Foggia. Domenica mi aspetterò, cioè cosa mi aspetto? Mi aspetto che ci sarà una bolgia incredibile, che i tifosi ci sproneranno dal primo secondo fino all'ultimo e sono certo che sarà anche per voi, noi faremo il massimo, sarà un pomeriggio indimenticabile e speriamo che sia a tutti gli effetti. È normale che qua a Foggia è così perché la gente ferma per strada e dice mi raccomando domenica, mi raccomando domenica e quindi ci dimostrano quanto la gente ci tenga soprattutto a questa partita, che per noi sono tutto uguale, sono 36 battaglie, ma per la gente di Foggia queste partite qua sono un po' più sentite, noi è quella cosa che ci deve dare, ci deve far scattare dentro quel qualcosa in più. Buonasera a Tiro Scalano, Antena Sud e Corriere dello Sport. Buonasera. Ti chiedo, secondo te a livello mentale di consapevolezza quanto siete cresciuti e quanto ancora potete crescere, anche perché il Foggia ha tolto Fasano e Gravina, se non erro le ha vinte tutte, e prova almeno in ogni campo dovunque va a dominare, è un segnale importante. È normale che il detto aiuta a vincere, su questo non ci piove, è normale che quando tu vinci una partita mentalmente la settimana la affronti in un'altra maniera, sei più determinato, più consapevole di tante cose e questo, il percorso che mi ha fatto fino adesso, ha aiutato questa cosa qua. Siamo cresciuti molto, dalla prima partita di Coppa Italia che facciamo a Brindisi, però dobbiamo crescere ancora tanto, dobbiamo alzare l'asticella perché così non basta, concediamo ancora un po' troppo, dobbiamo crescere a livello singolo e a livello di squadra, perché se tutti i singoli cresciamo in quello che ci chiede il mister, in automatico alziamo l'asticella e noi dobbiamo arrivare a quello che ci chiede il mister, a essere una squadra che la gente, la gente, le squadre devono avere paura di giocare contro di noi, perché noi la mettiamo tutta sulla cattiveria, sul non mollare mai, sul sacrificio, noi dobbiamo arrivare al top di quello lì, poi una volta che raggiungiamo quella sticella lì, magari gli errori ci possono stare perché sbagliano in Serie A, siamo ragazzi, normalissimi, possiamo sbagliare anche noi, però non deve mai mancare quello e noi la strada è ancora lunga, però con il lavoro quotidiano arriveremo a quello che ci chiede il mister. Grazie. Grazie a lei. Ciao Francesco, buon pomeriggio, Gianpaoli Mardi, Foggia Sport 24, ti faccio una domanda, molto può sembrare banale, ma è una cosa che un po' gira, visto il tuo rendimento onestamente straordinario, perché poi possiamo discutere tante cose, però una cosa è certa che sembra vi scomi più dieci, in questo periodo, ma detto questo, ma come alcune interpretazioni, anche il modo di trascinare, anche gli interventi, anche il tuo stile di gioco, la tua leadership, insomma stanno conquistando la gente, e la gente si chiede una cosa molto semplice, che ci fa vi scomi in Serie D? Visto che tra le altre cose, insomma tu ce l'hai accennato, hai frequentato essenzialmente questa categoria, e credo tu debba ancora esordire nei pro, se non ho visto male, diciamo. No, no, ho visto benissimo, purtroppo. Grazie, anche a lei la ringrazio, per le parole nei miei confronti. Io sono questo, sono una persona che, come ho detto prima, credo molto nel lavoro, e penso che nella vita non ti regala niente nessuno. Se ho sempre fatto questa categoria qua, è probabilmente perché non è che ho dei limiti, devo crescere ancora tanto, e per il momento penso che la mia categoria sia questa qua. È normale che ognuno di noi ispira ad arrivare più in alto possibile, il mio sogno personale è quello di arrivare nei professionisti, se ci dovesse arrivare col Foggia sarei ancora più contento. Parentesi, Foggia è in Serie D, ma solo da categoria, perché è Foggia come lo era l'anno scorso Cesena, sono due piazze che hanno tutto, meno che di Serie D, dall'organizzazione, dalla struttura, dallo stadio, dai tifosi, noi qua, e per tutti i giocatori di Serie D è già comunque, passatemi il termine, un sogno arrivare a giocare davanti a 10.000 persone in Serie D. Gli altri anni probabilmente non ho avuto la fortuna, ma io non cerco alibi, sicuramente ero io che non sono ancora pronto, non ero pronto per arrivare nei professionisti, si lavora ogni giorno per arrivarci. Ecco, mi collega a questa cosa che tu dicevi, e quindi ti chiedo, tu hai vinto un campionato a Cesena, poi che cosa è successo, nel senso che tu hai deciso, hai accettato la corte del Foggia, oppure, non lo so, col Cesena ci sono stati problemi, perché insomma, dopo che comunque si vince un campionato tendenzialmente si cerca di mantenere la base, è vero che tu a Cesena eri arrivato, se non l'ho letto male, diciamo già più avanti, non hai fatto tutto l'anno, però comunque hai vinto il campionato, immagino sia stato uno dei protagonisti, come lo sei stato già qui a Foggia in poco tempo. Cosa è successo con il Cesena? Perché poi non ha proseguito in Lega Pro, la tua avventura all'inizio, che era un'altra bella piazza. Sì, assolutamente, Cesena, anzi è stata un'altra esperienza per me incredibile, che come questa di Foggia, come era arrivata la chiamata, io ho preso subito, preso subito al volo con bagni e piedi questa opportunità. Cos'è successo? Nulla è successo, che la società ha fatto le sue scelte, come spesso accade, hanno cambiato l'allenatore, e il blocco, parecchi giocatori, come anche lo stesso Loris, Tortori, Francesco Campagna, che sono due giocatori fondamentali dell'annata dell'anno scorso, che loro erano lì da inizio anno, hanno fatto delle scelte, il mister ha voluto portarsi probabilmente dei suoi giocatori e nella maniera più tranquilla, rispettosa ed educata ci siamo salutati e ringraziati, perché sono io che devo ringraziare il Cesena, che mi ha dato questa opportunità di vincere il campionato, poi è normale che io ci ho messo del mio. È successo questo, poi invece la parentesi Foggia, insieme al mio procuratore Angelo Rea, io ho aspettato che ho avuto un sacco di richieste di categoria sopra, di serie D, solo che nessuna mi colpiva finché è arrivata la possibilità che mi ha chiamato il Foggia, e ripeto, per un giocatore che ha sempre fatto serie D, una chiamata del genere non si può rifiutare. Detto questo, per farvi capire, io comunque, avendo una bambina di 5 anni che sta a 800 chilometri da me, si fanno sacrifici, si fanno, cioè, per noi tutti deve essere un sogno e un motivo d'orgoglio fare parte di questa squadra qua. E come dicevo, una volta che mi è arrivata questa chiamata, non ho pensato un attimo, sacrificando magari la mia famiglia, però voglio dare tutto e cercare di portare questa squadra, questa maglia, nelle categorie che merita. Ultimissima, velocissima, qual è in gioventù, insomma, la persona, forse da un lato il tuo idolo e da un'altra parte magari chi a cui invece ti sei ispirato come giocatore, che squadra ti fai quando eri piccolo, due, tre cosettine della tua vita, tu hai cominciato a letto la Juventus, Domo, per cui diciamo, ho letto un po' la tua carriera, per cui alla fine ecco, se ci sono degli elementi, delle persone che hanno un po', leggevo per esempio che tu sei riconoscente a bicicletta che adesso allena la Fiorentina primavera, per la tua storia, ma soprattutto il giocatore a cui magari ti ispiri è quello che da piccolo, da giovane, quando hai cominciato potrebbe essere il tuo idolo. Allora, sì, io ho nato e cresciuto nella famosa D.D. Domodossola che tutti mi chiedono in città, ma esiste? Esiste, perché ci sono nato io. Io sono nato e cresciuto a D.D. Domodossola ho tuttora un bar e la figura che mi ha fatto avvicinare mi ha aiutato e se ho fatto tanto così nel calcio lo devo a mio papà e mio papà e la mia mamma perché quando mio papà mi portava ad allenarmi la mia mamma lavorava. Sono loro che mi hanno aiutato a crescere sia come persona ad innamorarmi di questo sport meraviglioso e come idolo posso dirle al giocatore al giorno d'oggi mi piace tanto Sergio Ramos perché è un giocatore molto carismatico un leader un giocatore che si vede che in campo dà sempre qualcosa in più che magari dove non arriva fisicamente però con la mentalità con la voglia di non mollare mai si distingue sempre e poi comunque è un giocatore che ha il vizio del gol che è una cosa che negli ultimi anni anche io ho avuto la fortuna di fare qualche gol e questo insomma Sergio Ramos diciamo che è il giocatore che mi piace di più è normale che è un mio idolo mettiamola così grazie grazie a tutti grazie a tutti